E in un modo o nell'altro è da quest'estate che è nata questa scia, ma si continua a parlare ancora di coppie che scoppiano, signori, questa volta tocca a Federico Fashion Style. E la notizia sulla moglie Letizia Porcu è ormai ufficiale, anzi la comunicazione arrivata proprio dalla donna che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto in qualche modo, insomma per forza di cose, dirlo a tutti i suoi followers, a spiegare più che altro che cosa è successo. Inevitabilmente tutti sono rimasti senza parole, un attimino un po' così, gelati no, come si dice. Anche se in rete sono anche apparsi messaggi di persone che non si ritengono sorpresi da quest'annuncio, forse sarà appunto perché si lasciano praticamente tutti da un po' di mesi a questa parte. Le parole di Letizia sono più chiare e non lasciano spazio a nessun tipo di interpretazione e ora i fan però vogliono sapere altro. Dunque, su Federico Fashion Style la moglie Letizia Porcu è piombata questa news clamorosa. Lo scorso mese di settembre l'hairstylist dei VIP aveva detto «Vi voglio tranquillizzare, sto molto bene, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tanto tempo». In adolescenza avevo accumulato un po' di chili, che poi piano piano dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale e vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell'espormi. Ora ho la pancia piatta e gli addominali. Non mi sembra vero. Ho qualche dolore, sì, ma è normale, passerà presto. Ma stando a quanto ufficializzato proprio nelle scorse ore, a parte tutto questo racconto, Federico Fashion Style, la moglie Letizia Porcu, sono arrivati a prendere una decisione importante, sicuramente molto sofferta. Loro si conoscono da tanti anni e hanno anche avuto una figlia insieme. Ma ora è giunto il momento di pensare al bene di tutti e due, che è giusto, e hanno compreso di dover intraprendere percorsi differenti. La donna ha deciso quindi di scrivere poche ma significative parole in una Instagram Story e i follower hanno ormai, per forza di cose, accettato questa storia. Giuseppe Porro ha quindi scritto sui social «È finita tra Federico e sua moglie». Lo annuncia a lei su Instagram. E quindi ormai l'ex coniuge dell'uomo ha scritto «Eh, dopo 17 anni insieme, la strada mia e di Federico si divide, rimarrà un rapporto di amicizia, ed è bene per la crescita e la felicità di nostra figlia». Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di mantenere un legame durevole nel tempo per pensare anche alla bambina. E questo è più che giusto, sempre se ci riusciranno nel tempo, ma spero di sì. Questi alcuni dei commenti postati sotto la notizia di Giuseppe Porro, ovvero «Per me non sono mai stati insieme, vivevano due vite separate». E un altro «Eh, si sapeva già, ma si vedeva, ci credeva solo lei e mi dispiace perché è una ragazza straordinaria». O un altro ancora «L'ho detto io, questo è l'anno dei divorzi VIP». Ed effettivamente dobbiamo ammettere adesso a fine video che un'altra coppia scoppiata, purtroppo, c'è. È l'ennesima di questo 2022 che proprio veramente ce ne sta proponendo una dietro l'altra. Beh, fino a dicembre, oddio, manca ancora del tempo, non vorrei che ci fossero altre coppie scoppiate, ma di questo ne riparleremo magari in altri video. Per ora è tutto, un abbraccione virtuale da Max. Non dimenticate il pollice in su e alla prossima!